Condizioni di tempo stabile sulla nostra regione con l'anticiclone che porta aria secca e ancora piuttosto mite in quota. Nel prossimo fine settimana non cambierà molto, arriveranno però progressivamente delle correnti più umide. Domani, sabato, avremo una giornata con cielo in prevalenza sereno, un po' di borino forse al mattino sulla costa, temperature stazionari e qualche grado sotto zero in pianura durante la notte. Domenica arriva un po' più di umidità, soprattutto nel pomeriggio, quindi avremo al mattino probabilmente cielo in prevalenza poco nuvoloso, poi aumento della nuvolosità nel pomeriggio, soprattutto verso sera, con possibili foschie, temperature in lieve calo, i valori massimi, visto la maggiore copertura nuvolosa, tempo migliore in montagna. Lunedì peggiora un po' su tutta la regione, quindi avremo cielo in prevalenza coperto, delle piogge sparse, un po' più abbondanti verso est, più deboli invece sul Pordenonese, un po' di vento da sud sulla costa, neve a 800 metri circa, e possibili nebbie in serata sulla pianura e lungo la fascia costiera. Martedì migliora un po', però rimarrà nuvolosità variabile su pianura e costa, avremo tempo migliore in montagna, con cielo in prevalenza poco nuvoloso, possibili però le nebbie e le foschie al mattino sulla pianura, poi probabilmente in dissolvimento. Temperature più o meno stazionarie. Buon fine settimana a tutti!